Sunday Monday Happy Days Tuesday Wednesday Happy Days Mitsubishi Electric è una multinazionale che produce oltre ad altri prodotti climatizzatori che in questo momento direi siano di grande interesse visto il caldo che abbiamo sopportato in queste settimane noi siamo prontissimi per raccontare a tutti i nostri clienti le caratteristiche e le migliorie che ogni anno si susseguono sul nostro prodotto la serata comincia a scaldarsi, gli ospiti sono numerosi e quindi ci aspettiamo una piacevole serata e delle vendite importanti